Quando mangiamo una bistecca di manzo da un chilo, mangiamo 15.400 litri di acqua. Di questi, il 94% è acqua verde, cioè acqua piovana, che per esempio nel caso di un terreno destinato al pascolo è immagazzinata dal suolo ed evapora. Il 2% è acqua grigia, cioè acqua necessaria per diluire le sostanze inquinanti rilasciate durante i processi produttivi. E infine, il 4% è acqua blu, cioè acqua prelevata dalla superficie o dalle falde acquifere. Ma come fa un chilo di carne a richiedere così tanta acqua? Allevando una mucca per tre anni, prima della sua macellazione, si ottengono 200 chili di carne disossata. In questi tre anni l'animale mangia e beve. In particolare, si nutre di circa 1.300 chili di cereali di vario tipo e di 7.200 chili tra paglia e fieno. Per produrli, ci vogliono 3.060.000 litri di acqua. Aggiungiamoci poi 24.000 litri, che è l'acqua che la mucca beve. Altri 7.000 litri sono quelli che servono per la manutenzione dell'azienda agricola e per il processo di macellazione. Quindi, in totale, per produrre 200 chili di carne ci servono 3.091.000 litri di acqua.